Al Milan ho ricevuto veramente qualcosa di straordinario, ho scritto che io e i tifosi del Milan ci siamo innamorati da subito ed è stato tutto bellissimo, ci sono poche parole, so che domenica sarà un momento difficile per tutti. Penso che sia venuto il momento per me di chiudere anche se è difficile, però davanti ai miei tifosi a San Siro sperando di fare la 300esima partita nel Milan dopo tutto quello che abbiamo vinto insieme penso che sarà una giornata speciale. Grazie